Perché i tiggani hanno questo tipo di esclusività, si danno le leccatine sulla roba sporca degli umani. Sì, soprattutto quando è molto profumato ho notato che le piace. Noi scampiamo, invece a le piace. Sulla roba purulenta si... Infatti, non capisco perché. Voi tiggani, se mi caca. Se mi caca un po'. Se mi sta cacando, mi caca. Lola. Un po' di interazione, se non sei interattivo questo... Non è difficile, però interattivo. Interattivo, ok. Questa è una possibilità ottima. Questo qua? Oh, mi caca chi? Questo qua bisogna di... Di un pochino di giochino. Ok. Ah, invece, un altro tipo di interazione e il giochino. Ok. Perché il giochino è la base. Dai. Yuhuuu. Scripinarlo. Oh! Oh! Lompiamo le palle! Al tiggano! Al tiggano! Al tiggano! Oh! Oh! Che buono! Morbido, delicato, strutturato, leggero e soffice. Buono! Oh! 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 L'importanza dei tigani! Iscriviti! Oh! C'è la scuola! I cani! Oh, c'è la scuola! Oh! Ah! Oh! C'è la scuola! E' la scuola! E' la scuola! C'è la scuola! Oh! Un pochino sì, né? Ciao Marco e il Naut! Sempre bordelli! Sempre bordelli! Il Tiganus? Ok. Vediamo di rompere le palle. Eh, oh! Perché il Tiganus è solo la base, no? Ah, qua c'è il Tiganus che è bello morbido. Vediamo se si può palpare in maniera univoca. Cioè che io palpo lui e non me. Si palpa? Sì. Ok. Però è un po' cazzuto perché cerca di interagire con queste specifiche videoludiche un po' rozze, no? Però si diverte. E i Tiganus sono così. Sono belli morbidi, belli soffici. Belli palpabili. Oh, 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 oh! Belli palpabili! Li palpiamo un pochino, veniamo un pochino? Ma il Tiganus, ma cosa stai combinando? Vediamo il Tiganus interattivo. Ah, voleva utilizzare un po' di computer. Un pochino di computer? Lo stava analizzando? Vediamo se il Tiganus è interattivo. Se regisce agli stimoli. Ma mi fanno così a loro. Oh. Allora. Una voletà, una voletà. Ehi. Una voletà. Chino? Il presidente ci tenivo tanto. Quale presidente? Guarda lì, cosa gli hanno combinato lì. Ah, ve lo sfondi. Come fai a respirare così? E respiri? Ma bella così, no? Spero che... Però è interattivo. E' doveviamo essere interattivo? Ma è un incidente? Ehm... Col giochino? Allora. Allora. Ero emozionato. Da sotto. Dunque. E' emozionatissimo. Sì. Con la permessa di... Plim. Titovalla. È il computer, no? Non è il computer. Non è il mio computer. Non si sarebbe lo scugnizzo milanese. Va bene. Presidente. Allora. Ma cosa c'è in tv? Ci sono queste... E' a voce di scugnizzo. No, le troiate. Oh, ok. Ah. Ehm... Il Tiganus qui? Si sta sbaffando... Si sta... Si sta giocarellando con quest'antinina che già... Che già bella sfondata. Ma il Tiganus interagisci con me. Interagisci. Ok. Ok. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah oh no 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 no